nó+, no, no, no na to ta, ra, ta, ra ta, ra, 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 ra ra ra, ra 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 capello ciao a tutti ragazzi, sono il filtretore Bertone e mi trovi in questo nuovo video Oggi siamo su Rec Room Praticamente il Roblox dei poveri Perché oggi andremo a cercare delle mappe proprio di Squid Game Come avete letto dal titolo e come avete visto anche dalla miniatura Oggi le andremo a cercare proprio perché Squid Game negli ultimi giorni come sappiamo E' esplosa praticamente tutti quanti ne parlano E in più nello speciale sono anche stato chiamato per un evento di Squid Game Organizzato da alcune scuole della mia città Sto registrando questo video prima di sapere se sono stato eletto oppure no Perché ci saranno i ballottaggi mercoledì 27 Che ancora sto registrando questo video che è lunedì 25 Quindi se avete visto lo speciale sicuramente saprete già come sarà andata E nulla Io direi di iniziare subito questo video con questa musica nostalgicissima Che la sentivo ogni volta che ci giocavo moltissimi mesi fa Perché io Rec Room una volta lo portavo intensamente molti mesi fa Per chi è nuovo praticamente questo qua come ho detto prima In il rape è Rec Room dei poveri Quindi Intanto guardate la mia skin quanto cavolo è bello Vabbè lasciamo stare E nulla Adesso andiamo subito nella search list a vedere se ci sono delle mappe belle Ok perfetto Siamo nel nostro menu Allora dove che era Ok Sembra che era Dove Non mi ricordo più dove Non mi ricordo più dove si cercavano le mappe Ah è vero play Ok Ok Enter code no Favorites Ah no ma sono ritartato Ma era qua da tutto il tempo Squid Squid Ah aspetta oh Squid G No aspetta Squid Game Ok Allora Vedo che ce ne stanno già un bel po' da fare Quindi Se volete che magari porto la seconda parte di questo video Fatemelo sapere qua sotto nei commenti Io direi Visto che la prima proprio che mi viene E quella Secondo me più consigliata è quella ma sta meglio Penso sia questa di Digirin Ok Magari facciamo private Personalmente non voglio andare con altra gente Ok Lights out Ok Sono il player 1 ok Bene Che si deve fare Ovviamente chi ha visto il film Riconosce sicuramente questa stanza Ok Più 101 every fire minus here South Korean won Ah tutti Questi qua sono tutti i won I won che hanno vinto Quelli da che hanno fatto Questa mappa qua Set associate spawn Subscribe for free won No grazie Ok Che si deve fare Game is up the stairs Quindi si dica che ci No Vabbè Ma non ci credo Ma hanno veramente ricreato anche questo Choose a game to play Ok allora 1 2 3 stella No grazie Magari si Non lo so Dalgon Attacco fu Tira la fune Jungbu Il gioco di biglie Poi la roba dei vetri No Squid game Bad No direi di iniziare da qua Proviamo Con 1 2 3 stella Ok Vediamo un attimino Che cosa Ci mette un pochettino Davanti Questa mappa Oddio Eh Aspetta Non ho capito Green line Aspetta Ok Ok ho capito Ho capito come funziona adesso Non so Ma per Ma perché Ma mica mi sono mosso io Ok Beh sono andando avanti per adesso Anche se ho fatto soltanto 2 ma È già un traguardo per me Ma perché Ma mica mi sono mosso io Ok Ma perché Ma perché Ma sì ma perché mi si muove la testa a caso Green line Sì ma dai ma ha detto Ha detto luce verde Mi sono mosso e mi spara lo stesso Vabbè Basta Scegliamone un altro Perché veramente Ok 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 Allora Bisogna un attimo vedere anche la vincita Allora Se facciamo il cerchio 15 won Il triangolo 10 La stella 30 E l'ombrello 20 Io proverei Prima con la cosa un pochettino più semplice Ovvero Il triangolo Praticamente che si deve fare Ready to start Ok Uiii Ok Sì ma una domanda Questo qua Come si fa a fare da solo Ah no Il gioco 4 non esiste Va bene Allora facciamo questo Ok Il quinto gioco Era quello del vetro Quindi Qui bisogna semplicemente Avere fortu Avere fortu Perché non mi fa passare Ah vero Sarti Come ci può essere qua Ma come Anche qui Ma dai Perché a parte lo stile Lo stile Tutto Però i giochi Non è che sono fatti Chissà che In quello là Del caramello Con il secondo Praticamente Non si capiva Che cosa si doveva fare Nel primo Ti spara Anche se Ti spara Anche se Stai fermo E nel terzo Praticamente Devi giocare con 2 Il quarto non esiste Il quinto Anche devi giocare con 2 Bene Come si inizia Con Questo Ok Almeno questo Lo posso fare Ok Bene Va bene Boh Non ho capito Ho guadagnato 20 won A caso Non lo so A parte da qualche Mi ricordo Teoricamente Sarebbe Per andare di qua Ma Non capisco Ho dato altri 200 won Boh E nulla ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Mi raccomando Lasciate un bel mi piace E iscrivete al canale Sono rimasto un pochettino Deluso Perché Questa mappa In particolare Non Non ci aveva Il gran che Di giochi Anche perché Come ho detto prima Nel secondo Si capiva Praticamente L'ho detto prima Del perché Mi ha deluso Questa mappa Fatemi sapere Se volete Una seconda parte Di Di questo video Magari che vado a provare Anche altre mappe E nulla Io vi saluto Bella Ciao 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 Ciao